Si terrà a Napoli il prossimo 13 e 14 marzo la conferenza internazionale sull'usura che vedrà a confronto l'Italia ed alcuni paesi dell'area balcanica e dell'est Europa. In programma due giornate di dibattito sulla società civile e sul quadro giuridico che regola il prestito tra privati e usura per capire se in questi paesi il fenomeno è considerato un reato quale legislazione è presente in tema di contrasto e prevenzione ed in che modo è possibile intervenire. Per riflettere insieme a operatori sul campo, a persone che stanno sul campo per riflettere insieme su qual è lo stato dell'usura in quei paesi dell'est Europa, cioè cercare di capire qual è la percezione di questo fenomeno, se ci sono misure legislative che in quei paesi sono state assunte nel contrastare questo fenomeno e qual è anche la risposta dal punto di vista del versante culturale e sociale. Lo faremo portando il know out del nostro paese, cercando di portare l'esperienza fatta con una legislazione che ormai è ventennale, più che ventennale e che riteniamo se da un lato presenta alcuni chiari scuri, dall'altro lato però è una legislazione che sicuramente può costituire una buona prassi da portare fuori dai confini nazionali. Al convegno prenderanno parte rappresentanti istituzionali del mondo accademico e di quello giudiziario di Romania, Bulgaria, Albania, Serbia, della Campania e della Basilicata. L'evento vedrà la partecipazione di rappresentanti del governo italiano e dell'Unione Europea ed è promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo con il Comune di Napoli, Libera Campania e Banca Etica. Napoli è soprattutto in prima linea contro le forme più insidiose di criminalità, quindi per la prima volta nella nostra città si parla di usura internazionale, in particolare con alcuni paesi dei Balcani per discutere di un reato su cui si parla poco, che incide sulla vita delle persone, delle famiglie, delle imprese e addirittura anche di un'Europa, perché un'altra Europa va costruita anche con un'economia più pulita. Quindi siamo contenti che gli organizzatori di questo evento abbiano voluto scegliere Napoli e farlo insieme a noi.